Ogni quarto d'ora, 24 ore al giorno, un suono, quello delle campane dell'orologio della chiesa di Santa Maria Esther che da sempre scandisce la vita di acqua viva con le croce. Meno di 500 abitanti nella comunità di minoranza linguistica croata, riferimenti e abitudini che accompagnano le giornate. Una raccolta di firme avviata da un piccolo gruppo di residenti e consegnata al Vescovo chiede però di fermare questo meccanismo legato all'orologio. La risposta della maggioranza della popolazione con un'alta raccolta è stata però quella di mantenere questo stato di cose perché in sostanza quel rintocco rappresenta una parte dell'identità del Paese. Una mobilitazione che ha animato il dibattito e il confronto ad acqua viva con le croce attorno a un campanile ricostruito due volte e simbolo della comunità. Per ora dalla curia di Termoli Larino, non essendo del comune la competenza, è arrivata una comunicazione che sulla base di una nota della CEI e di alcune sentenze consiglia di interrompere gli intocchi delle campane dell'orologio dalle 23 alle 7 del mattino e i quarti d'ora durante la giornata. Sulla vicenda che in una piccola comunità continua a far rumore molto di più di un singolo quarto d'ora si attendono gli sviluppi, non si escludono le vie giudiziarie.